L'obiettivo è distruggere i loro mezzi di trasporto. Dobbiamo attaccare rapidamente prima che faccia giorno. Ci sono domande? Cos'è la fotosintesi clorofiliana? Se è tutto chiaro, possiamo dare inizio all'operazione. Signor, sì, signor! Cecchino, arrivano, arrivano! Che non è arrivato, che non è arrivato! Fanno secco quel figlio di puttana! Non fallirò, signore! Grazie a tutti!